Spezia Inter 1-3 Brozovic, Lautaro Martinez, Lautaro Martinez Maggiore entrano in campo le due squadre con spettacolo e pubblico pagante. Al quinto minuto di gioco lo Spezia ha un'occasione per passare in vantaggio parando Andanoci. Prendendo il palo Gieco ha un lato per fuori gioco segnando l'Inter con Brozovic al trentunesimo minuto divorandosi con Rea un gol senza corte. Non raddoppiando il risultato con due minuti di recupero finendo il primo tempo 0-1. Nella ripresa della partita lo Spezia ha due occasioni non concretizzate, meglio vicinissimo lo Spezia a pari con grande occasione con Gieco che ha avuto la palla a gol del 2-0. L'ha doppiato Lautaro Martinez al settantunesimo. L'Inter va sul 2-0 con Sanchez che si divora lo 0-3 parando il portiere con lo Spezia che segna il 2-1. Con Maggiore l'ottantunesimo con tiro a giro di Sanchez che non inquadra la porta con 4 minuti di recupero con Persic che prende all'estremmo della porta segnando Sanchez chiudendo i giochi con lo Spezia. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, campanella e un commento. Ciao! Ciao!